Il treno interstituto 5-9-4 di Trenitalia, iniziale da Trieste, iniziale di diretto a Roma Termini, nelle ore 14.01 e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Firma San Donati, Piate, Venezia, Valle, Settice, Romino, Ferrara, Bologna Centrale, Turato Centrale, Firenze, Ripreghi, Firenze, Camponate, Arendto, terrotto la cordona, chiusi a Cianoterme, un diretto forte. Canote dalla 2 alla 3, che sta al treno, dalla 4 alla 3, che è il treno, dalla 7 alla 8, che è il treno. Il treno interstituto 5-9-4 di Trenitalia, iniziale di Trenitalia, Il treno interstituto 5-9-4 di Trenitalia, iniziale di Trenitalia, Il treno interstituto 5-9-4 di Trenitalia, iniziale 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 di T